emozioni air station tanta gente si lamenta di vari aspetti nell'ambito della beauty e vorrei lanciare questa freccia a tutti quei professionali che realizzano estensione dei capelli con il valore aggiunto della psicologia applicata al parrucchiere quindi emozioni perché perché io mi faccio tante domande dice ma perché mi devo fare allungamento dei capelli per raggiungere che cosa allora io credo che ci sia un pensiero comune della donna in particolare che i capelli lunghi rientrano in un immaginario collettivo che bellezza e morbidezza e femminilità e tanti tanti altri aggettivi invece quello che vorrei parlare che tipo di emozioni da allungamento dei capelli paio di settimane fa o è un ho incontrato una mamma che psicologa specifica per i giovani dove ho fatto l'allungamento a sua figlia bellissima ragazza che nel momento che abbiamo allungato i capelli ho fatto questa iniziazione e il significato profondo dell'allungamento dei capelli che non è solamente beauty ma è qualcosa di più come uno strumento per migliorare degli aspetti della vita nell'amore nell'autorealizzazione personale per migliorarsi e avendo avuto l'opportunità di incontrare questa persona specializzata nella psicologia dei giovani ho proposto di intervistarla e raccontare quello che è storia da quando ho cominciato ad allungare i capelli il significato e l'emozione che può dare questa questa tecnica qua perché nel momento che noi allunghiamo questi capelli allunghiamo lo spazio della persona anche perché i capelli si estendono da 3 mila anni in tanti modi in tante fogge ma hanno sempre avuto un significato profondo anche religioso del prolungamento dell'anima e ci sono tantissime pubblicazioni io da giovane ho seguito il ramo d'oro di freser magia e religione e tutte le credenze dell'uomo e quindi attraverso queste queste letture molto interessanti dal taglio dei capelli matriarcale dice che significa significa che solo le donne o solo le mamme potevano recidere i capelli senza buttarli nascondendoli un posto sicuro dell'abitazione proprio perché qualcuno di vario natura maghi e stregoni entriamo in un contesto un po più un po più particolare che non c'entra niente con il parrucchiere però è la fonte delle emozioni che noi proviamo tutti i giorni non solamente con allungamente nei capelli ma anche con altre altre cose per il tempo cercare di trasmettere questo concetto che il parrucchiere si fa la beauty però è anche vero che c'è un'esperienza che ti insegna però lo faremo spiegare alle persone specializzate in psicologia applicata se questa teoria è adeguata a quello che sto facendo da 40 anni potremmo approfondire un pochino di più nel questo volume nello spazio che significa per una persona noi non ce ne accorgiamo ma ogni volta che abbiamo una reazione a nell'ambiente nel relazionarsi con le persone conosciute o sconosciute prendiamo le sconosciute nel momento che noi conosciamo questa persona il nostro corpo si mette nel in autodifesa in autodifesa rizzando tutti i pelli del corpo non ce ne accorgiamo però delle volte possiamo pure fare a caso su questa cosa rizzando questi peli del corpo piccolissimi ma si rizzano anche i capelli per esempio come l'astronauta che abbiamo visto italiana con questi capelli nello spazio che acquistava volume era bellissima e la storia del volume nello spazio per l'autoconservazione della specie nel senso un leone o un altro animale rizza il suo pelo come il cane come il gatto per esempio anche noi abbiamo questa questo questo fenomeno e quindi nel momento che noi allunghiamo questi capelli si aumenta si aumenta la forza la forza di interagire ne aspetti per esempio a livello lavorativo nel momento che io mi sento a mio agio con me stessa posso produrre molto di più di quello che non avrei potuto fare con uno stato vitale molto più basso e quindi le estensioni di capelli possono essere uno strumento veramente interessante l'importante è che l'operatore che ti inizia a questa disciplina nel senso l'estension come fashion come tecnica adesso ce ne abbiamo veramente tante l'estension quasi 32 modi di allungare i capelli non è per tutti uguali e qui entra proprio quella professionalità di interpretare che non è facile però è possibile attraverso lo studio dei fenomeni attraverso la visione